eccoci di nuovo insieme con un nuovo appuntamento con salvano amico siamo al parco canile di monza dove presenta all'interno anche un gattile e siamo con lara proprio per conoscere un simpatico amico ha quattro zampe che fa anche le fusa allora questo gattino borbottone si chiama quiz è un gatto adulto di probabilmente 5 o 6 anni che è stato trovato per strada non fa male a nessuno però ha questa patologia probabilmente neurologica che lo rende un po' traballante e quindi un pochino insicuro e quando succedono delle cose che gli danno un po' fastidio si arrabbia non fa male a nessuno però esprime il suo disappunto a voce molto alta diciamo così ricordiamo lara anche che in questo periodo di feste l'empa organizza un mercatino per raccogliere fondi e insomma per quanti sono anche la ricerca di qualche regalino per natale o proprio per parenti amici per le festività è sicuramente una bella occasione per trovare qualcosa di bello sfizioso che fa anche del bene assolutamente sì siamo tutti i giorni in centro a Monza sotto l'arengario oppure in varie piazze nel centro della città dalle 9 di mattina fino alle 6 e mezza di sera orario continuato c'è sempre almeno una volontaria e oltre al banchetto in centro a Monza abbiamo anche allestito in canile in via San Damiano 21 una banchetta anche qua con tutta la nostra merce i panettoni il miele della nostrosi di biodiversità e varie cose anche per gli animali ed è anche una bella occasione per conoscervi assolutamente e abbiamo anche i nostri biglietti della nostra lotteria della Lotterempa l'estrazione sarà il 29 gennaio ci sono 100 premi in palio di varie organizzazioni, negozi e realtà del territorio che hanno offerto tutto per beneficenza una bellissima iniziativa anche questa grazie Lara per essere stata con noi speriamo ovviamente che il nostro cucciolone trovi presto una casa dove possa sbizzarrirsi e dove possa tenere compagnia sicuramente alla famiglia che troverà, che lo accoglierà noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e al prossimo appuntamento con Salva un amico grazie per adottare o avere ulteriori informazioni contattare il canile di Monza al numero 039 835 623 oppure mandare un'email a canile-enpamonza.it